non avete sentito niente ds is mother no in realtà non è ds è solo ds ai ds mother no ragazzi il primo è proprio via se c'è già qui e ds arcinetto vabbè tu madre a merda i'm ready for dio infinitivo sassone avete studiato i compiti che vi ho dato no dai metti qua cazzo le bandiere a chi serve il ride mettere bandiera regola numero uno no però io non posso gioca 30 fps ma una pallina eh ragazzi non prendi la prendi la prendi la pallina di che la bandiera no io con lancino hai passato e dice no dai tranquillo aspetta devo fare una cosa non c'è brown non c'è brown non vogliamo prendi la gabriel ma chi cazzo spari lì beh ragazza spara una palla nera arato aspetta davide devo fare una cosa devo mettere questo fatto eh no sto cambiando l'arma eccome sto cambiando l'arma eh ma chi ti si pula eh tipo guarda già mi si è fermato ah ok è vero non c'ho abilzolare eh non posso correre a casa per la nappa ci sei dv vuoi aprire la porta dv prendila davide tu vuoi aprire la porta quelli a sinistra io apro loro eh le avevo presse avrò questa a me a posto ma perché io non sento di voi lo sento in in eco dv ma che l'ho mutato perché abbiamo dato chi m'ha mutato ma io non sento di voi lo sento con l'eco mi sento eh ecco lo sento ma è rimutato vedi che non ti sento più no sì ma sto dicendo tv vabbè ma io sono vuole fare il lavoro delle donne ma cazzo io ho la presa davide tu aprile la porta loro ok ma sta tornando in casa adesso ok a pull up up to party dai su buon cantare lino di giambi non c'è probabilmente dai zitto eh dammi quando vuoi prendile ok vai a porta aperta apri quelle mid davide se c'è no vabbè la faccio io l'acqua a 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 se C'è stato un problema tecnico è caduto l'acqua E' mai che sei più vicino Sono al lago niente e sono morto mi sa Come siete morti Queste cose non sono troppo Dvc dei Eh sei mutato Sono andando è quello qui in fondo Aspetta Vai ci sto Prendi Davide rinompi quella lì Bravo Davide Ma lo spazio io Martellino Martellino destroy disc E' breve non sapere i cazzi due che armi se sa Cosa c'era? C'era uno schiavo c'era Ma quale minotauro li ho fatti fuori ero due li ho fatti fuori Minchia c'era un minotauro un sandalo Un minotauro Un minotauro Boh Eh tu madre soccolo Ma quando vai? Ma perché di essere sempre inutile Ma perché io ci sono? Ehm Vai torni Vai Vai No, adesso è pure peggio Ah Ma c'è un glitch al tempo Perché venti secondi sta Non è parte da un minuto Prima andava un minuto Prima quando l'ho fatto un minuto Io voglio giocare in acrofile. Evo, che schede hai da con l'R1? Non puoi, devi correre con la palla. No, devi stare sempre con l'R1 a sfammarlo. Mannaggia, vovaria. Tu sarai la forza. No, ma la fai giocata di sotto. Ti respawno poi. Oh, go, toglie i colpi. Easy. Non hai respawnato, Gianmi. C'è questa suona tecnica. La mia spada, tu non vuoi. Ma spera, stanno prendendo le cose che non fa Gabriele. Vai, prendi. Cosa? Che c'è, Gabriele? Ma non so, spazi limiti. Sono qui, il turno prima. Che palle, però. Eh, mi ha messo un echidio. Fai il minutero a destra, Davide? Ma quella sa parla di spagnolo. Vado a far quell'altro? Ah, ragazzi, ma che era quello? Che cosa si dice? Il messaggio di Messenger? Di Messenger? Di Messenger? Ma c'è la R2D2. Che fa? Che vuoi? Perché mi sono bozza? Ma è l'ultimo o ce l'ho? No, no. È lui, è l'ultimo. Ah, è l'ultimo. Dv, dv, trovo la testa anche se non si vuole troppare, vai. Io voglio, io voglio la ricognizione. Solo perché mi piace. Oh, bello, la ricognizione. Ricognizione di un'unione, pure io. Di bene una mani ferme, madonna, madonna. Ok, ero troppo di ricognizione di Godroll. Ok, un altro motivo per non fare più ride. Arma Volpal? Frensia, carica esplosiva. Troppo con carica esplosiva, veramente? Dai, quale è Godroll? Eh, quale è Godroll, scusa? Lucio Ribello, però non è. Eccomolo Troppo di, scusa.